Ciao, benvenuto in Alta Marea di Antonello Venditti Do maggiore La minore Sette Fa Mi quattro e Mi sé Stessa cosa Fa Con il Mi Quindi Fa maggiore Settima maggiore Sol Fa Sol Do e La minore Qui Fa Sembra questo giro Sol Do Arpeggiando magari Do maggiore Do maggiore La minore Do maggiore Uno Do Quando Do E Allora fai una parte strumentale Do, Do settima maggiore, Fa maggiore settima maggiore, Sol, poi fai Fa, Do Fa, La, poi Fa, quindi sarebbe La bemol con il Si bemol, un barré al primo tasto, Si bemol e va modula, va Mi bemol, Domino e Se, La bemol, Sol settima, quarta, Sol settima, qui Mi bemol è questo Do, vedi, spostato al sesto tasto ma con un mini barré sul terzo tasto, La bemol maggiore settima maggiore, Mi bemol, La bemol, Si bemol, La bemol, Si bemol, Mi bemol, Do minore, Mi bemol, Do minore, Mi bemol, Do minore, E ritorna, La coda, Fa maggiore, Re minore, Si bemol, Se ti è piaciuto iscriviti al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao, un saluto da Giambiro. Ciao, un saluto da Giambiro. Ciao, un saluto da Giambiro.